e beh a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono i vostri peggiori incominati mia cucina giamaica ciao oggi andremo a vedere dei nostri vecchi video e vedremo quale sarà la nostra reazione di commenteremo anche che mia cucina quando era piccola anche le faceva i video con noi però su un altro canale che è poi stato chiuso per copia ma andiamo subito al sole questo video ragazzi incredibilmente lo ritornerò a fare senza tagli e senza montaggi perché mi scoccio e poi perché il programma ce l'ho supportato e ora qua stiamo sul fisso come potete vedere qui tra guarda di nuovo c'è tutte le canzoni di Shawn Mendes che si sente mia cugina ok ok vediamo tutti i miei vecchi video partiamo da un video con un mio amico Alessandro si chiama Frenchy and Alex 99 no quello la preparisco evitiamo esatto vediamo questo qui invece ecco qui allora cominciamo con questo che c'è il nostro caro amico Alessandro si è scione eccolo qui rivediamolo aspetta rivediamolo adesso che manda a fanculo il pubblico guarda qui com'era piccolo io ero pelato ero pelato con un vicio in testa tutto paffuto ora quest'altro la lista dei film horror con Francesca Antonio eccolo allora Marcella sediamo la voce il video sarà l'undici classificati del più moro torno a dire le classifiche mentre io troverò le immagini il undicesimo classifico della lista di film horror con Francesca Antonio è l'undici classificato della classifica della lista dei film horror con Francesca Antonio eccolo è l'undici che è l'undici che è bambino al processo di醋 no vorrei fare dicendo che non ho classificato nella classifica dei film horror è freddy abbia un suggestione 먹勇 gli amici freddy che lo farà venire in carne e ossa vediamolo un vero pazzo inconsciente un vero pazzo inconsciente l'ottavo classificato della classifica della lista e poi ci vedono le scarpe di questo abbiamo anche un quarto questo è un cannibale qualsiasi pure le immagini sbagliate adesso vediamo un po' chi c'è con il posto l'uno sette sette c'è sauo 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 solo hai visto sauo non ce l'ho fatto tomano l'italista in inglese a lui zero zero in realtà si trova la maschera di un vecchio il vecchio bambini e bambine quello che state vedendo è tutto una funzione quindi se vedete queste maschere sono assolutamente false e chi c'ha secco lo so quando uscite ma bambine e bambine quel sangue o ketchup il sesto classificato il sesto la classifica dei film horror è lester face later face lester face il later face lester face lo quarto e nove ecco ecco il quinto classificato il classifica dei film horror è johnson 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 l'olio johnson non lo so io va bene a sto mo a me è buon lì anche su gta però ti te lo devi scaricare è la mod ragazzi questo film di fazio è marcello ok è stato bagnato il quinto classificato lo so il quinto classificato te lo sei chiamato il quinto classificato della lista del film horror è Cucci Cianti Cianti e Cucci e Cucci Cucci si chiama Cianti Cianti la bambina assassina Cucci e Cucci e Cucci e Cucci e Piccioni e Piccioni adesso questa è una pronuncia che vi dico io terzo classificato è la classifica dei film horror è l'esorcista almeno che almeno che almeno che l'angarra guarda si è andata a tostarello bello ecco 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 ci stai facendo cucci dice la lista di la maschera di cera la maschera di cera vediamo è la mia ragazza è bello adesso passiamo alla maschera si è fatto notte si è squagliata la pubblicità la calvani il pomodoro sto facendo lo sponsor la sponsor la calvani il cosa per stoppare i video vediamo in un altro c'è no ma non si può è troppo divertente avevo questo qui muori salve a tutti ragazzi oggi faremo un video in cui Antonio parlerà della sua famiglia spero che sia divertente sarà lui la sua famiglia che conoscerà lui suo fratello la sua mamma è il suo papà vai iniziamo con il mio papà il mio papà ha peli su tutto il corpo strane sulla testa anche sulle tizze sulle tizze sulla cosain la cosain la cosain di patata e sul sederino sul sederino è fumatico ha una fonte così grande poi non ci fa mancare niente non ci fa mancare niente e 50 centimetri e mamma che entra su chi è nella porta là e e e un po' cicciura risposta la mamma quanto fa la cacca buccio e chi c'ha secca perché chi le caccia sapunette che la nici sta vengendo il fratello massimiliano non lo dente e si chi scerco la somma è bene è bene che mi stai dicendo a posto è il risultato che ti puzza ma lui dice no no sono tutti ci puzza ma infatti non è bene allora per ti a a meno che puzza poi e e poi e poi e e quando alcune volte non si fa la pipì sotto però quando fa la pipì gli scoglie un po' sul pantalone e rimane una macchia di visciazza e davvero il pantalone ti puzza portami invece parlando di me una cosa ti fa ma poi lui parla bene questa parte è brutta la prossima la prossima la prossima la prossima è la prossima anche il video adesso ah sì sì ci stanno su altri canali però nicchio presente questo è il nostro canale guardiamo altri video va bene ragazzi il video di oggi finisce qui questa prima parte spero che vi sia piaciuto iscrivetevi commentate ci vediamo alla seconda parte bella ragazzi grazie grazie